Il treno regionale 17.080 di Treni d'Italia, provvediente da Ferrara, è diverto a Venezia-Salta Lucia, delle ore 12.27, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla, che è in tutte le stazioni. Attenzione! Treno in transito al binario 7. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno in allo alta velocità 89.11, provvediente da Venezia-Salta Lucia, è diretto a Roma Termini, delle ore 11.57, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Firenze-Santa Maria Novella, Roma di Gurtina. L'ambiente smart è in coda al treno. Il treno regionale di roce 39.94, di Treni d'Italia, provvediente da Bologna Centrale, è diretto a Venezia-Salta Lucia, delle ore 12.03, è in arrivo al binario 3. Invece al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monselice, Terni d'Italia, da Monteglotto, Tadova, Venezia-Mestre. Il treno regionale di roce 39.94, di Treni d'Italia, provvediente da Salerno, è diretto a Venezia-Santa Lucia, delle ore 12.03, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale di roce 39.72, di Treni d'Italia, provvediente da Bologna Centrale, è diretto a Venezia-Santa Lucia, delle ore 11.03, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monselice, Terni d'Italia, da Monteglotto, Tadova, Venezia-Mestre. Il treno regionale di roce 39.04, provvediente da Napoli Centrale, è diretto a Venezia-Santa Lucia, delle ore 11.03, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monselice, Terni d'Italia, di Terni d'Italia, da Monteglotto, 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 Terni d'Italia. Grazie.